Gli uomini sono abbastanza terribili sulle strade, tu ne parli anche nel... Tu dici che non avevi bisogno di sentirti realizzata. Gli uomini hanno una cosa, secondo me, agghiacciante. Non tanto non si fanno superare, non c'è... Sono sempre nella corsia sbagliata. Se devono girare a destra, sono in quella sinistra e viceversa. Sono sempre in corsia di sorpasso. Ebbene, sì. Sempre in corsia di sorpasso. E ti vanno dietro, 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 dietro e io gli odio. A me succede una cosa strana, perché io sono un passeggero veramente noioso di quelli. Io tendo a usare i pedali anche se non ce li ho. Ah, quelli che schiacciano. No, eccetera. E per esempio sento il bisogno di cambiare. Io sento che il motore ha bisogno di cambiare. Ma se non sai guidare. Ma io so guidare. Senti il bisogno di cambiare. Non ho la patente, è diverso. Ma qui è tosta. Ma qui ti ha insegnato? Mi faccia un parcheggio. Mi ha insegnato mio papà. Ah, vabbè. Mi ha insegnato mio padre. Io qui comincio a intravedere, sempre se fossi il mio ex analista, qui comincio a intravedere delle chiavi interessanti di questo blocco. Sì, anche perché il modo in cui mi ha insegnato a tenere la macchina è, mi faceva fare tutti, sai quei semafori che durano pochissimo? Che deve ingranare subito, partire dietro, c'hai 18 tir, che suonano ancora prima che diventi verde. Per cui io so guidare, il problema è che non ho la patente.